Qui è dove tutto è cominciato. Qui è dove hai imparato a guidare. Qui è dove ti puoi fidare. Qui è dove i profumi si confondono e fanno l'aria di casa. Qui è dove tutto cambia, per ripetersi ogni anno. Dove c'è sempre un motivo per vedersi, per credere in un futuro possibile. Un futuro che dipende da te. E qui è dove vogliamo sentirti dire, ce la posso fare, per sentire dentro di noi che ci siamo riusciti. Affiancandoti, sostenendoti, trattenendo i tuoi progetti qui, nel tuo paese. Ce l'abbiamo fatta, sì. E ce l'abbiamo fatta. Qui da noi. 142 banche di credito cooperativo formano il gruppo bancario cooperativo ICREA. Un gruppo forte e solido che punta al futuro facendo tesoro del passato. Gruppo bancario cooperativo ICREA, la prima banca locale del paese.